Messer Presidente, voi dite che io sono la vostra Bibbia, ma voi siete stato cinque anni in Europa, siete andato in Piemonte e Lombardia, avete visitato Risaie, bevuto Nebbiolo, criticato il Duomo di Milano e non siete andato a Vicenza a vedere i miei edifici. Li conoscevo perfettamente anche prima di arrivare in Europa. Cosa potevano insegnarmi di più dei quattro libri dell'architettura? Ci sono tutti i vostri edifici, disegnati in scala, con le misure, accanto agli edifici antichi che li hanno ispirati. Vogliamo parlare della traduzione dei quattro libri che voi utilizzate? Giacomo Leoni ha pubblicato sbagliata persino la rotonda, con otto finestre tonde nella cupola. Non direi sbagliata, ma migliorata. Ma no, è proprio sbagliata. Una cupola può prendere luce solo dalla sommità, come il Pantheon. È stato Leoni, immagino, ad ispirarvi quella vostra cupola a spicchi di vetro. So esattamente come è fatta la rotonda, perché ho visto le incisioni originali usate nell'edizione francese dei quattro libri. Ma io dentro volevo più luce. È un modo gentile per dire che la rotonda non funziona. Ma nemmeno per sogno. Io l'ho proposta come casa del presidente degli Stati Uniti d'America. È che andava resa più comoda, adatta ai tempi. Io faccio con voi, maestro, quello che voi avete fatto con gli antichi romani. Studio a fondo, comprendo le regole, e poi faccio architetture per il mio tempo e la mia terra. C'entra con la luce, la bizzarra invenzione di gonfiare le stanze verso l'esterno, con tre pareti dritte e una ottagonale. Io lo chiamo bow, arco. L'ho imparato dagli inglesi. Piegandosi all'esterno, la parete prende il sole da tre direzioni, diventa un semicerchio di aria di luce. In più si triplicano le viste verso il giardino. Sono importanti le viste, lo dice anche Plinio. Lo so bene. Per questo ho costruito la rotonda come una macchina per guardare il paesaggio in quattro direzioni, ognuna con una vista diversa, sempre più aperta fino a raggiungere l'orizzonte. Certo, la rotonda su un monticello di ascesa facilissima, circondato da amenissimi colli che rendono l'aspetto di un molto grande teatro. Conosco a memoria queste parole dei vostri quattro libri. Me ne sono innamorato subito, tanto che ho chiamato la mia casa Monticello. Veramente, il Monticello della rotonda è alto trenta metri. Il vostro Monticello è una specie di montagna. Se foste venuto a Vicenza, lo avreste visto con i vostri occhi, Messer Presidente. Non sono venuto perché davvero non avevo tempo. E poi vi conosco a fondo lo stesso, signor architetto. Non vedete che le mie ville, come le vostre, sono per gentiluomini che lavorano la campagna, non per signorini in parrucca che ci vanno al trotto. Nelle mie ville le barchesse non servono solo a passeggiare al riparo dalla pioggia, ma sono posti dove si lavora veramente. Ci sono le stalle, le rimesse, le cantine. Sì, le avete viste nei quattro libri. No, le ho lette nei quattro libri. Guardate che ho letto accuratamente il vostro trattato. Ho capito che i suoi segreti non sono solo nelle immagini, quelle bastano i fallegnami. Una cosa non avete capito però. Cosa? Che un edificio deve essere come un corpo dove la facciata esterna corrisponde a quello che ci sta dentro. Nei vostri edifici non è così. Ma interno ed esterno non sono la stessa cosa. La facciata di una casa parla a tutti quelli che la osservano. Gli interni sono per il proprietario e la sua famiglia. Io ho pensato agli uomini che dovevano abitare dentro quelle stanze. Non mi bastava che fossero ben proporzionate. Io le volevo soprattutto comode, sempre con camini e con i soffitti mai troppo alti perché da noi gli inverni sono freddi. E poi... E poi? E poi ci sono gli ospiti. È bello avere amici, ma in una casa bisogna anche che ci sia un poco di riservatezza, che gli ospiti non vedano i domestici che vanno avanti e indietro. Per questo ci vogliono passaggi nascosti, porte secondarie, corridoi. Un altro modo gentile per dire che non sono più attuale? No. Da tutta la vita uso le vostre colonne, i vostri capitelli, le vostre trabeazioni. Cambiano gli anni e i progetti, ma quello che cerco lo trovo sempre fra le pagine del vostro trattato.